Mentre è partita la commissione d'inchiesta sul periodo sanitario che secondo alcuni esponenti di Fratelli d'Italia dovrà indagare anche sulle modalità del trattamento obbligatorio a cui sono stati sottoposti gli italiani c'è l'altra faccia della medaglia. L'Italia infatti sarà obbligata ad acquistare altre 40 milioni di dosi. Nonostante le iniezioni abbiano subito un rallentamento i risultati mostrano che l'Italia riceverà consegne per 36,7 milioni di dosi del prodotto di Pfizer BioNTech di 2,9 milioni di dosi di Novavax. Le iniezioni verranno consegnate per le campagne invernali 2024-2025 e 2025-2026. Nel frattempo i dati del governo italiano mostrano che l'Italia ha somministrato 2,1 milioni di dosi dall'inizio della campagna di questo inverno. Sulla base delle tendenze attuali questo suggerisce che la grande maggioranza delle dosi previste per i prossimi due inverni saranno quantomeno in eccesso. Francesca Donato, aerodeputata italiana, ha definito scandaloso l'obbligo di acquistare 40 milioni di dosi, soprattutto considerando la situazione economica dell'Italia. Il governo italiano dice dovrebbe rifiutarsi di accettare questi contratti soffocanti utili solo a garantire i profitti alle aziende che li producono. L'Italia non è l'unica ad essere avvolta dagli accordi vincolanti firmati al culmine del noto periodo sanitario vissuto. Il più grande contratto mai firmato dall'Unione Europea con Pfizer e BioNTech per un massimo di 1,8 miliardi di dosi. I paesi si sono lamentati di essere sommersi da troppe consegne e di non avere abbastanza persone che fanno poi questi richiami. Pfizer ha fatto già causa alla Polonia e all'Ungheria dopo che questi paesi si erano rifiutati di ricevere le nuove dosi nonostante i contratti sottoscritti a causa dell'eccesso di offerta. Anche il trend dell'Italia conferma questo sovradimensionamento della domanda. Dai rapporti emerge che l'Italia ha un deposito pensate di 21 milioni di dosi. Di questi 16 milioni vengono considerati ormai obsoleti perché pensati per altre varianti passate. I documenti indicano che il governo intende donare 8,2 milioni di queste dosi obsolete alla Thailandia e alla Libia. Molti altri paesi europei si trovano in una situazione analoga anche se i dati non sono stati ancora pubblicati. I dati del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie mostrano che in media solo il 2,4 per cento delle persone nell'Unione Europea ha ricevuto l'ultima dose. Si va dall'assenza di dati in alcune parti dell'Europa orientale a un massimo del 12,6 per cento dei Paesi Bassi. Il quotidiano politico aveva già raccontato a dicembre che un minimo di 215 milioni di dosi erano state gettate in tutta l'Unione Europea per un valore massimo stimato di 4 miliardi di euro. Di questi l'Italia ne aveva buttate 49,1 milioni di dosi. Uno spreco di soldi incredibile del quale nessuno mai risponderà. E si tratta di una cifra anche certamente sottostimata dato che diversi Paesi, tra cui la Francia, hanno rifiutato di fornire i dati. I documenti nel Ministero della Salute italiano mostrano che finora il Paese ha speso 4,4 miliardi di euro in dosi e oltre la metà di questa cifra, 2,8 miliardi di euro, è stata destinata a BioNTech-Pfizer. Altri 1,3 miliardi di euro sono andati a un altro sviluppatore, Moderna. Secondo rapporti interni del governo italiano, si prevede di spendere altri 850 milioni di euro per le dosi che devono essere ancora consegnate. Il Ministero della Salute italiano non ha risposto alla richiesta di commento avanzata dal quotidiano politico. Da tutto questo si evince che in assenza di obbligo gli italiani fanno una scelta ben diversa da quella che invece era stata fatta negli ultimi tre anni e che c'è un enorme, clamoroso, gravissimo sperpero di denaro pubblico a tutto vantaggio di chi ha fatto firmare questi contratti. E una delle principali artefici di tutto questo, come Ursula von der Leyen, che magari ci ritroveremo ancora alla presidenza della Commissione Europea con il voto italiano, non ha nulla da dire come non ha nulla da dire Draghi che era presidente del Consiglio quando tutto questo sperpero è cominciato.